Tutti, durante un progetto sulla comunicazione parlavamo dei famosi sondaggi su LinkedIn. Oggi ne vorrei fare uno invece in modo un po' anomalo alla concentrazione. Nel mio caso, in funzione a tipologia di progetti che sto seguendo, ascolto Bossa Nova, Chill, Lounge, musica di meditazione o suoni naturali. Voi quando volete concentrarvi su alcuni progetti, che tipo di musica utilizzate? Fatemelo sapere nei commenti così ne discutiamo tutti insieme. Concentrazione, concentrati, in azione!